Da tempo cerchiamo risposte concrete al problema dei fondi dell'emergenza neve 2012 e da tempo non arriva alcun riscontro in merito. Arriba a dirlo in una lettera aperta, inviata al governatore Paolo Di Laura Fratture, al presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno, i sindaci di Conca Casale Luciano Bucci e di Rocca Mandolfi Giacomo Lombardi. Ai vertici regionali già è stato inviato un documento sottoscritto da 37 sindaci per chiedere quali soluzioni si intendano adottare, ma non è giunta alcuna risposta. Un silenzio assordante che continuano Bucci e Lombardi fa comprendere che ci sia scarsa volontà di risolvere qualcosa che si trascina da ormai 5 anni, espressione di un distacco dai problemi della collettività. I fondi emergenza neve 2012, oltre che spettanti per diritto, sono necessari e fondamentali a riequilibrare una situazione debitoria che sia innescata tra le imprese e gli enti locali operanti sul territorio. L'appello ai governanti affinché ci sia un serio e puntuale impegno in proposito, ponendo la questione al centro del dibattito politico. La missiva sarà presto inviata anche a tutti i consiglieri regionali, nella speranza che si risveglino le coscienze, mentre non sono escluse delle proteste qualora non vi sia alcun riscontro alle richieste dei primi cittadini coinvolti.